Noi stiamo lavorando con il vostro sostegno alla nuova polis, che è l'Italia, alla nuova politica. Io vi ho conosciuto, vi hanno detto voi portate l'antipolitica, voi siete il trionfo della politica, della buona politica. Avete portato il vento della rivoluzione, spazzare via i privilegi per pochi e invece assicurare vantaggi per tutti. Noi non parliamo di slogan, noi parliamo di progetti concreti. Gli slogan li lasciamo a quelli che dichiarano che hanno le coperture finanziarie per regalare le tasse a tutti, per non far pagare nessuno, per regalare servizi gratuitamente a tutti quanti, 100-200 miliardi. Stiamo mettendo a punto questo Green New Deal, che cosa sarà mai? Sarà una serie di misure che renderanno il nostro paese più bello, più pulito, l'energia rinnovabile, non dovremo più subire i danni dell'inquinamento. L'incredibilità dell'azione di questo governo dipende dal nostro impegno ma anche dal vostro sostegno. Grazie, grazie e auguri! Grazie! 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 Grazie!